Ciao, come vi chiamate? Ciao, io sono Claudio Io Matteo Allora, uno per volta, ditemi cosa avete guidato e come è andata? Io ho guidato una Lamborghini Huracan è andata molto bene fortunatamente sono arrivato secondo ho stretto un po' troppo la seconda curva verso i 2.20-2.30 però tutto sommato è andata tutta la grandissima Quindi la prossima volta la medaglia d'oro invece che quella d'argento? Esatto, la prossima volta la d'oro che questa volta l'ha vinta lui con la sua Ferrari però purtroppo dobbiamo essere abbastanza sportivi e quindi oggi meritava, meritava il collega Allora, dimmi com'è andata e come è fatto a meritarti questa medaglia d'oro? Io ho guidato un'umilissima Ferrari poteva andare meglio ma ho vinto lo stesso lui è arrivato ultimo nonostante la pioggia sono riuscito a toccare i 350 con la quattro ruote in staccata sui due 220 però ce l'abbiamo fatta lo stesso Va bene ragazzi l'importante è che con noi vi siete divertiti scherzi a parte il pilota vi ha fatto andare veloce? Non ci mancherebbe Tantissimo sì, è stato veramente bravo Sono contenta e con noi come vi siete trovati? Malissimo non è vero benissimo sono veramente molto gentili e affabili a parte il cameraman che ci ha messo tre ore per posizionare il telefono Mannaggia sei sempre tu mi fai fare sempre brutta figura tutto il tuo mannaggia a te ragazzi grazie mille di essere venuti spero che tornerete se vi fa piacere sicuramente grazie a voi dipende dal cachet se ci pagate bene ci verremo sicuramente va bene un attimo che vi do gli attestati alla prossima grazie mille